Ciao a tutti, oggi voglio fare un appello per me e per le persone che come me non hanno l'utilizzo delle gambe, ma utilizzano una serie a rotelle. Allora, passiamo dal presupposto che dovete avere più civiltà, più educazione, più rispetto. Voi ci mancate di rispetto ogni giorno, voi siete talmente consegnati sempre e solo su di voi, che a noi non ci pensate. Voi pensate che noi non esistiamo, ma fatevi una ragione, noi esistiamo e io lotterò ogni giorno per dire no ai marciapiedi, piedi di ogni cosa, la prima di utilizzarmi, bisogno di traspassare, traspassare, tra tavoli, di serie, biciclette, motorini, macchine, di tutto e di più. La maggior parte dei marciapiedi sono senza un simbolo per salire e per scendere di un disagio. I pochi marciapiedi che lo hanno appunto sono utilizzati come parecchia da macchina. Allora, anche una piccolezza del genere, per noi è una mancanza di rispetto. Quindi vi chiedo di far funzionare un po' di più il cervello, perché come la città non è solo vostra, è anche nostra, perché anche noi siamo dei cittadini, come anche voi lo siete. Quindi vi chiedo il rispetto, l'educazione e di far funzionare il cervello. Quindi io dico no alle barriere architettoniche e dico sì alle libertà di movimento. Un bacio, vi saluto e vi acclamo. Vi rivedete. Ciao!